Tutti mi hanno detto che non capirai la chiesa di Bologna finché non vivi con la chiesa di Bologna San Luca e l'ho capito perché effettivamente quanto protegge e quanto questa immagine rivela la fede profonda, la devoluzione profonda dei bolognesi e l'identificazione della città con questa madre. Per questo indubbiamente direi che questo ci aiuta ancora di più ad avere uno sguardo largo, quello di una madre, cioè imparare a vedere con gli occhi di Maria la nostra città, i suoi problemi e tante sofferenze. Anche chi arriva a Bologna da poco tempo, per esempio gli immigrati, subito si ritrovano in famiglia in questa devozione? Molto, io invitai, quando andai a trovare gli Eritrei, li invitai ad andare, venire alla processione e subito si sono ritrovati, ho visto tantissimi ucraini, rumeni, anche della chiesa ortodossa, ma che sentono profondamente quest'unica maternità. Credo che sia anche una grande indicazione per vivere, cominciare a vivere già quello che il Signore ci ha lasciato come comandamento, che sia una cosa sola.